Mentre il sottosegretario con delega alla ricostruzione Vito Crimi garantisce che entro la prossima settimana sarà varato dal governo il decreto Sisma che prevede anche un finanziamento di 10 milioni di euro a copertura delle minori entrate del Comune Aquilano, il tempo per l'approvazione del bilancio stringe. Entro il 31 marzo il documento finanziario deve essere approvato altrimenti si andrà avanti con l'esercizio provvisorio e con il commissariamento del bilancio da parte del Prefetto. Se ne dovrà occupare il neo vice sindaco Raffaele Daniele che ha ricevuto la delega dal sindaco martedì sera. Ma intanto preoccupano le conseguenze che un'eventuale mancata approvazione del documento finanziario entro i termini previsti dalla legge potrebbero avere sulle attività ordinarie e straordinarie dell'Aquila. Se non dovesse se dovesse permanere questa situazione purtroppo il primo la prima conseguenza è che il bilancio rimarrà appeso non sarà approvato e quindi si andrà in esercizio provvisorio quindi il prefetto dovrà nominare un commissario perché come è noto a tutti il bilancio di previsione degli enti locali deve essere approvato entro il 31 di marzo c'è stata già una proroga la data è fissata al 31 di marzo. Allo Stato per quello che ne sappiamo il bilancio non è stato predisposto non c'è nemmeno un assessore al bilancio in questo nostro comune e quindi c'è l'urgenza che il sindaco si muova e provveda a ricomporre la giunta perché poi il primo atto importante quello più qualificante per un'istituzione comunale il bilancio senza il bilancio si blocca tutta l'attività non ci saranno investimenti non ci sarà nemmeno ecco stai a rischio anche il pagamento degli stipendi dei dipendenti a rischio anche finanziamenti per il decennale del sisma è forti dubbi è tutto tutto è una investimenti di attività qualificanti rischia di rimanere bloccato ecco perché non si può continuare a giocare o a portare avanti contrasti all'interno della coalizione fra i partiti per posti di potere la città ha bisogno di essere amministrata questo è quello che io chiedo e che tutti chiediamo